Quattro vittime in quattro giorni ed oltre 20 feriti, una settimana da incubo sulle strade della Toscana. L'ultimo incidente mortale in ordine cronologico è quello avvenuto sulla strada regionale della Futa, nel comune di Barberino di Mugello, dove un uomo di 74 anni ha perso la vita nello scontro tra due auto e un mezzo pesante. In base alle ricostruzioni dei carabinieri, le vetture erano incolonnate quando è sopraggiunto il tir che ha tamponato l'ultimo veicolo della fila che è andato a urtare l'auto che lo precedeva. L'uomo a bordo della prima macchina è deceduto sul posto nonostante i soccorsi. Maxi tamponamento anche sulla Due Mar in provincia di Grosseto all'altezza di Campagnatico, con 14 feriti tutti fortunatamente non gravi. 22 i mezzi tra auto e tir coinvolti nell'incidente che si è verificato in direzione Siena. Sette feriti e un'ambulanza semidistrutta invece in uno scontro avvenuto mercoledì mattina a Uzzano in provincia di Pistoia. Nello stesso giorno ha perso la vita sulla 1 all'altezza di Barberino una 38enne residente in Mugello, travolta da un camion dopo una sbandata in corsia di accelerazione. Sangue sulle strade toscane anche martedì pomeriggio, sulla 15 tra i caselli di Pontremoli e Berceto. Vittima una giovane motociclista diciottene che si è schiantato contro un tir sulla carreggiata Nord davanti agli occhi del padre che lo seguiva in auto a poca distanza. Lunedì mattina, infine, a Tavarnelle Valdipesa, una 52enne senegalese alla guida di uno scooter si è scontrato frontalmente con un'auto che viaggiava in senso opposto ed è morto sul colpo per le gravi ferite riportate nell'impatto. Lunedì mattina, infine, a Tavarnelle Valdipesa, un'auto che viaggiava in senso opposto